carissimi amici di king channel buongiorno a tutti e allora è stato tolto il video di ieri riguardo i nodi perché comunque sotto segnalazione mi sono reso conto che si vedeva male poi c'era disturbo anche nell'audio per colpa dei miei cagnolini che abbaiavano insomma ho preferito eliminarlo e ricaricarlo facendo vedere le due esecuzioni dello yucatan più la variante del toni pegna e poi spiegherò qualche altro notino così per un utente che mi ha fatto delle domande comunque ragazzi il video è stato tolto per questo motivo adesso lo rifaremo nel così toglierò anche l'altro video dello yucatan perché qui ve lo farò vedere in due modi quindi in quel video si partiva con il fluorocarbon che andava a fare le spire sul trecciato su questo adesso partiremo direttamente con il trecciato che andrà a fare le spire sul fluorocarbon e poi il fluorocarbon che farà le spire sul trecciato lo eseguiremo in tutti e due modi quindi senza perdere tempo mi vado a creare la mia asola ok prendo il fluorocarbon come vi ho fatto vedere e glielo accosto dietro dopodiché mi porto avanti i miei 7 8 centimetri di trecciato inizierò a fare 8 spire 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ragazzi io ne sto facendo 8 perché questa volta ho usato un fluorocarbon leggermente più maggiorato per mostrare meglio il nodo inserisco lo spezzone di fluorocarbon nell'occhiello del trecciato e me lo porto dietro vado ad accostare ora lo spezzone di fluorocarbon sul capo nobile del fluorocarbon ok in questo modo li tengo tutti e due e questo ragazzi è quello che rimane adesso andremo a serrare il nodo dicevo sto usando un fluorocarbon è leggermente maggiorato e quindi faccio meno spire se usate fluorocarbon più piccoli vi dirò dopo le misure potete fare più spire arrivato a questo punto ragazzi prendete un po d'acqua e andate a inumidire il nodo i nodi bagnateli sempre mi raccomando bagnateli perché si assestano anche meglio se si bagna se se sta meglio quindi bagnate tenendo tutte e quattro i capi andate ancora a serrare dopodiché mollate lo spezzone di fluorocarbon tenendo tutte e due i capi del trecciato e il capo nobile del fluorocarbon e serrate ancora come vedete è il fluorocarbon adesso che andrà a serrare attorno al trecciato quindi esternamente adesso si vede il fluorocarbon vado a tagliarmi l'eccedenza come vi ho detto qui potete tagliare anche a zero ragazzi però se volete se volete lasciare qualche millimetro non fa niente qui non serve fare una serie di mezzi colli li andrò a fare dopo sul toni pegna quindi anche qui io taglio ma lascio sempre qualche spezzoncino e questo qua ragazzi come vedete è lo yucatan eseguito con le spire del trecciato che vanno sul fluorocarbon l'abbiamo fatto all'inverso di come era fatto adesso vi farò vedere l'altro vi ripeto la differenza non non c'è sono due nodi eseguiti in modo diverso all'inverso diciamo che comunque hanno la stessa tenuta stessa identica tenuta l'unica differenza è questa esternamente con questo sistema voi esternamente vedrete il fluorocarbon le spire del fluorocarbon esterne con l'altro sistema voi vedrete le spire del trecciato esterne come le vedete sul toni pegna e sull'all bride quando lo eseguite né più né meno ragazzi è la stessa identica cosa e allora adesso abbiamo invertito i capi quindi andremo a fare lo yucatan questa volta con le spire del fluorocarbon attorno al trecciato prendiamo il nostro fluorocarbon ragazzi sto lavorando con qualche diametro leggermente maggiorato per farvi vedere al meglio il nodo quindi andrò a fare meno spire diciamo 8 spire se utilizzate dei dei fili diciamo giusti quelli reali che usiamo noi in pesca potete fare anche con un pe 1.0 e un fluorocarbon del diametro di 25 26 28 mm potete fare anche 15 spire 20 spire su questo nodo se invece utilizzate dei diametri maggiorati vi conviene fare 8 10 spire al massimo 12 non di più altrimenti il nodo serra malissimo quindi asola di fluorocarbon trecciato accostato dietro ok in questo modo mi porto avanti i miei 7 8 centimetri di filo ok e vado a fare le mie 8 spire quindi una due tre quattro 5 6 7 e 8 adesso all'interno mi vado a mettere lo spezzone del trecciato in questo modo e me lo porto dietro e lo vado a unire con il capo nobile del trecciato quindi li terrò tutte e due qua e iniziamo a serrare ragazzi come vi dicevo il fluorocarbon serra leggermente meglio fatto in questo modo rispetto al trecciato non cambia nulla ma serra scivola meglio arriviamo a questo punto al solito andiamo a bagnare il nostro nodino mi raccomando sempre saliva oppure acqua perché i nodi serrano molto meglio trecciato si bagna e serra anche meglio e da qui ragazzi ecco qua è chiuso questo addirittura l'ho chiuso senza fare tantissima forza ho fatto molto meno forza ecco adesso con l'ultima stretta mi vado a tagliare se vogliamo anche con i due capi nobili un'altra stretta ecco qua mi vado a tagliare le eccedenze e adesso vi farò vedere quello che vi dicevo io che praticamente sarà questa volta il trecciato a vedersi esternamente rispetto al fluorocarbon voi potete tranquillamente eseguirlo come meglio credete ragazzi io ve l'ho spiegato sia in un modo che nell'altro funziona abbastanza bene la tenuta è sempre quella ancora un pochettino di fluorocarbon e via eccolo qua questo è lo yucatan questa volta eseguito con vedete si vede esternamente il trecciato non si vedono più le spire di fluorocarbon in questo modo però la differenza è nulla ragazzi la tenuta è ottima su tutte e due i nodi mi raccomando solo adeguate il numero di spire in base sempre ai diametri dei fili che vi trovate in mano quindi fili sottili fate tante spire fili più grossi fate meno spire a questo punto andremo a vedere adesso la realizzazione della variante del tonipegna ragazzi come ho spiegato nell'altro video ho scelto diciamo di fare questo tipo di nodo e non il classico tonipegna perché perché a fine pescata quando andiamo a smontare la canna quindi avviciniamo i due elementi per bloccarle con le fascette tutto e chiuderla e recuperiamo per inserire il filo all'interno della canna praticamente questi nodini del tonipegna essendo conico specialmente se realizzato con un fluorocarbon maggiorato quindi già da uno 0 30 mm risulta un nodino molto voluminoso quindi nel momento in cui andremo a recuperare il nodino andrà a battere in battuta si va a incastrare nei primi cinque anellini della canna che sono molto piccoli e questa è una scocciatura per me e così ho voluto provare questa variante per vedere se riesco a risolvere il problema e sembra di sì sembra di sì perché il nodo risulta molto più uniforme diciamo come lo yucatan come l'all bride quindi non si va a incastrare e scorre tranquillamente inoltre la tenuta del nodo comunque abbastanza buona perché poi l'ho anche forzato tantissimo e ho visto che regge parecchio e allora per me converrebbe fare questo tipo di tonipegna con la variante anziché il classico e lo andiamo a vedere subito ragazzi quindi prendiamo il nostro fluorocarbon andiamo a creare la nostra asola bella larga così potete vedere bene da qui io entro con due dita e mi vado a prendere i due capi sotto di fluorocarbon ragazzi quindi entro con le dita all'interno mi vado a prendere i due capi entro catturo i due capi e torno indietro tornando indietro si va a formare una sola doppia in pratica si va a formare questa sola doppia dentro questa sola doppia voi prendete il trecciato lo potete inserire sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso non vi cambia nulla lo inserite ve ne portate dietro 20 centimetri abbondanti perché vi serviranno dopo per fare dei mezzi colli dopodiché potete tranquillamente serrare l'asola vedete come va a serrarsi guardate come chiude chiude la tirate abbastanza e come vedete non c'è più quel nodo fastidioso grandissimo voluminoso del toni pegna ma c'è soltanto una piccola asola che va a chiudermi quindi così mi trovo diciamo un po meglio prendo il trecciato me lo porto avanti ragazzi e da qui in poi accade la stessa identica cosa del toni pegna la stessa realizzazione prendete il filo vi create il vostro loop e iniziate a fare una serie di spire ok ne farò 5 perché comunque sto usando un fluorocarbon abbastanza diciamo voluminoso e non vorrei che desse problemi poi alla fine con le troppe spire che si fanno quindi una due tre quattro cinque e vado indietro quindi ho fatto un totale di cinque ad andare e cinque a tornare spezzone di trecciato all'interno del loop che avete creato e ve lo portate indietro il nodo ragazzi è identico al toni pegna non cambia niente cambia soltanto che anziché fare quel nodo all'inizio si fa quest'asola che risulta più sottile e più comoda da utilizzare a questo punto iniziate a serrare mi raccomando all'inizio piano se si accavallano le spire le tirate poco poco indietro vado a bagnarmi il nodo fatelo sempre e tiro piano piano controllate sempre le spire ragazzi mi raccomando eccolo qua che è arrivato perfetto cosa facciamo tagliamo il nostro spezzone di fluorocarbon e questa volta ragazzi ho lasciato un po di trecciato in più questo è il nodino ok è poco poco conico pochissimo molto meno dell'altro e questa volta ragazzi con lo spezzone di trecciato per bloccare la famosa asola che noi all'inizio dove noi all'inizio abbiamo inserito il nostro fluorocarbon per bloccarla definitivamente andiamo a farci una serie di mezzi colli ok ne potete fare anche tre tre li portate in battuta sul trecciato stringetele bene io qua le sto stringendo poco però mi raccomando stringetele bene i mezzi colli li dovete stringere bene ragazzi andiamo a chiudere anche con questo poi se volete ne fate una due tre e ve le andate a serrare con questa diciamo potete tranquillamente chiudere tutto il lavoro definitivo riportatele indietro se va ad accavallarsi sul nodo ecco qua e con questa basta non stringo più di tanto ma voi stringete bene i mezzi colli mi raccomando andate a bloccarvi tutto il lavoro e potete tagliare ecco qua ragazzi questa qua è la variante del tonipegna senza il nodo quindi quello che voi andrete a vedere sarà soltanto questo spezzone di trecciato che non da alcun problema perché è morbido quindi non va ad incastrarsi da nessuna parte e il nodo comunque questo qua ragazzi risulta meno fastidioso del classico tonipegna però con la stessa identica tenuta ve lo posso garantire io l'ho stressato tantissimo e regge molto è poco conico non è molto conico è molto uniforme più che altro naturalmente qui io ho fatto poche spive cinque da andare e cinque a tornare proprio perché sto usando un fluorocarbone leggermente maggiorato per farvi vedere al meglio l'esecuzione dei nodi ma con i fluorocarbone che usiamo noi in pesca quindi parliamo di un 25 26 28 questi sono i diametri più o meno che si utilizzano se si pesca in zone molto sabbiose addirittura c'è chi pesca anche con il 22 quindi dal 22 25 26 28 è un pe del 1.0 o 0,10 0,8 potete fare tranquillamente 10 spire ad andare e 10 a tornare e ve ne escono 20 io ne ho fatte 10 per questo motivo perché comunque ho un filo leggermente maggiorato perfetto questa è la variante del tonipegna provatela perché è un nodo molto bello ragazzi regge parecchio ve lo garantisco adesso vorrei rispondere invece alla domanda di un ragazzo che mi ha fatto un commento dicendomi Francesco ma io posso utilizzare questi nodi lo yucatan, il tonipegna, l'all bride per unire due materiali con struttura uguale quindi parliamo di nylon e nylon oppure fluorocarbone e fluorocarbone caro amico io non saprei come risponderti perché non pratico la tecnica del surfcasting non faccio altri tipi di pesca ho fatto in passato un po' di pesca bolognese ma non andavo a utilizzare questi nodi quindi per venirti incontro se vuoi unire diciamo due materiali con struttura uguale quindi nylon e nylon oppure fluorocarbone e fluorocarbone io ti consiglio un nodo che facevo quando pescavo a tonnetti alletterati quindi mi ritrovavo nella bobbina uno 0,30-0,35 volevo fare uno shock leader dello 0,40-0,45-0,50 quindi utilizzavo questo nodo che risultava comunque un nodo abbastanza resistente simile diciamo al nodo di sangue se vogliamo ed è molto resistente ed è facilissimo da realizzare si fa in pochissimo tempo non si perde nemmeno tanto tempo a farlo quindi prendi due capi facciamo finta giallo lenza madre e azzurro shock leader poi dietro saranno di colore uguale più o meno questi fili qua prendi i due capi li avvicini e vai a fare un semplice nodo ok? questo nodo non dovrà servirti alla tenuta ma solo a tenere i due capi insieme dopodiché prendi i due capi e dovresti formare questo formi questo guarda quindi prendi i due capi e vai a formare questo questo lavoro qua ok? vedi che con le due dita io sto tenendo adesso l'estremità in tensione perché? perché qua poi mi ritrovo due capi dove uno rimarrà fermo e con l'altro ando a fare una serie di spili attorno quindi una, due, tre, quattro e cinque ok? mi fermo a cinque naturalmente anche qui lascio aperto al centro anche qui ragazzi entra in gioco il diametro dei fili più grossi sono i fili più spire potete fare più piccoli sono i fili più grossi sono i fili diciamo meno spire dovrete andare a fare viceversa con fili più sottili potete fare più spire sulla giunzione vado a tirare dal basso verso l'alto quel nodo dove io tenevo i due fili fermi e questo è quello che rimane guarda a questo punto puoi iniziare a stringere inizia a stringere stando sempre attento vedi? stando sempre attento che non si accavallino le spire quando arrivi a questo punto bagni il filo io adesso non l'ho fatto però bagni il filo e serri definitivamente ecco qua ti posso garantire che questo è un nodo che tiene parecchio è molto simile al nodo di sangue molto simile molto simile al nodo di sangue eccolo qua altrimenti puoi andare sul nodo di sangue classico credo tu lo sappia fare in caso qua lo rifacciamo subito non è un problema prendo i due capi di fluorocarbon e fluorocarbon oppure nylon e nylon li accosto insieme li tengo uniti e mi vado a fare da un lato questo lavoro qua naturalmente anche qui mi raccomando in base ai diametri due tre e quattro in base ai diametri decidi vespire da fare e serri il primo ok? non lo serrare al massimo adesso lo serrerai dopo quando andrai a chiudere giri quindi te ne vai dall'altra parte e fai la stessa identica cosa anche qui andiamo a fare le nostre quattro passate una due tre e quattro e serri e serri a questo punto prima di serrare definitivamente bagna sia i due nodini che anche i due capi diciamo al centro bagnali bene dopo di che prendi e inizi a tirare e come vedi i due capi si avvicinano e potrai serrare definitivamente questo è il classico nodo che tutti fanno nodo di sangue che tiene tantissimo su lenza diciamo su fluorocarbon e nylon regge veramente tanto purtroppo slitta se si va a fare con trecciato e nylon e quindi fai il classico fai il classico nodo sono ottimi tutti e due si è il primo che è questo quindi questa volta forse ce l'abbiamo fatta a fare a realizzare questi nodini un attimino più più puliti più belli da vedere anche perché sinceramente come mi aveva fatto notare Antonio ieri tra i cagnolini sotto che abbaiavano tra la messa a fuoco che si vedeva malissimo effettivamente non andava non andava ho preferito toglierlo e ricaricarlo lo ricaricherò tra poco questo nuovo ragazzi quindi i nodi più o meno sono questi provateli provateli mi raccomando eseguiteli con molta calma se sono nodi che non avete mai fatto ragazzi perdeteci un po' di tempo eseguiteli con molta calma curate bene le spire mi raccomando anche nel serrare il nodo le spire non si dovranno mai accavallare quindi dovranno sempre seguirsi una dietro l'altra ma mai accavallarsi perché se il nodo è realizzato bene il nodo tiene tantissimo poi è chiaro che ogni terminale ragazzi ogni giunzione ha un suo carico di rottura noi dovremmo prendere un dinamometro iniziare a stressare veramente il nodo per vedere a quanti chili il nodo cederà ok ma io sono convinto che comunque questi nodi sugli incagli che noi andiamo a fare se sono degli incagli non molto ostili si riesce forzando un pochino a liberare la totanara se sono degli incagli ostili vi posso garantire che anche con fili grossissimi si taglia perché comunque quando c'è un incaglio vero e proprio non c'è niente da fare si deve tagliare almeno che non avete un amico che si butta in acqua e se ne va con la maschera sotto a liberarvi l'incaglio si deve tagliare per forza quindi non c'è altro ma sono dei nodi che tengono lo yucatan tantissimo questa variante del toni pegna anche mi è piaciuta sinceramente a patto che la variante del toni pegna sul finale ragazzi proprio perché c'è l'asola che noi abbiamo creato doppia dove inseriamo il trecciato sul finale dovete fare i mezzi colli perché i mezzi colli del trecciato andranno a chiudere in battuta su quell'asola dove noi abbiamo passato il trecciato quindi si andrà a rinforzare tantissimo la tenuta sul nodo senza i mezzi colli potrebbe slittare ma se fate una serie di mezzi colli fatene tanti e poi magari alla fine ne andrete a fare 3, 4, 5 insieme e serrate definitivamente tirate bene i mezzi colli mi raccomando quando realizzate il nodo è chiaro che questa variante rispetto allo yucatan comporta un attimino più di tempo lo yucatan si esegue molto più velocemente rispetto alla variante del toni pegna però entrambi hanno un'ottima tenuta io vi saluto vi auguro una buona giornata a tutti quanti ci vedremo sul canale spero di andare a fare qualche pescatina tanto ormai potrei farne ancora una massimo due poi basta perché comunque la stagione si conclude almeno per me si conclude quindi un saluto e a presto ciao ragazzi per la stagione per la stagione